postina l'ho detto i corsari, Gaber e i Annacci e... Giorgia, devi solo ingustare quella roba non è difficile se guardate su Youtube avevano questo cappellino, questi occhiali proprio loro, così e il pezzo fa così, scritto nel 62 ma molto attuale quindi siamo pronte, cazzo signore non ci siamo capiti signore stai senti quel che ti dico no, a me baci dico no no, a voi dico no a voi la qui mi sorriso dico no, no no, no non voglio i tuoi palazzi, non voglio le richieste non voglio le carenze verico materacchio ma guardate allo specchio non vedi che sei vecchio dimmi che vuoi da me no, mi chiedo che ti insisti nel farmi le proposte ti dirò ma cosa c'è che desidero da te una pezza di limone una pezza di limone una pezza di limone una pezza di limone nel te non voglio le proposte 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 una pezza di limone 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 nel te Grazie Io sono peggio di Bruce Springsteen Questa canzone tutte le volte